La storia parte, non so se sono tre o quattro anni fa, che sono venuti Marcello e Francesco. Sono venuti, mi hanno detto se ne abbiamo bisogno di qualche informazione particolare, tu te la puoi dare, non c'è nessun problema. E poi l'anno dopo mi hanno chiesto di andare proprio là in Albania. Questa qua vedete questa qua con il bianco, vedi che c'è il naso un po'. Queste qua sono da carne proprio. Vado dalla carne era scuro al grigio, al grigio chiasco così qua. Il mio nome non è veterinario. Io parlo di veterinario, io sono veterinario e poi non posso. Io sono anche agricoltore per i miei vaticanti, faccio la legna, faccio tutta serie di cose perché è proprio una cosa che mi piace. Dove si attacca la coscia alla pancia. Questa coscia mi è buona? Deve stare attaccato proprio. Guarda. Vedi che si vede. Si, guarda. Si, guarda. Si, guarda il cuore. Siamo venuti in Italia. Per vedere un po' come funziona qua. E che ne passi aderci traditi. I capo ziuci, i capo zbava. Nel morsi, nel 16.00, sono nga cushtet e due obta c'è che c'è in Shqipri. I scopri in migrazione. E mora esperienze goza. Ne, dungle di i generali. Per farlo, i fermenti li metto tutti nel latte. 10 giorni dopo lo buchi, li sviluppa con la muffa e gli cambia il sapore. Però io lo faccio in un modo particolare che lo faccio a pasta quasi dura. Tanto chi vuole sentire... Ma, e la ricotta la riesce a fare senza problemi? A quanti gradi arriva quella macchina? Sono lì, anche a 100. Se io ho imparato, più avvero con l'esperienza, con le mie capacità, a ottenere certi risultati, mi fa piacere che anche gli altri possono a così, non si prendere la macchina. E così, non, no, oltre che mangiare, così si prepara un mille al fatto, uno riesce a controllare meglio se la mammella va bene, se i danno qualche problema. Mi interessa molto con Anna e Bajs per lavorare. Mi arretto che ci sono molto bene, ma non è normale. Non è solo bene, ma non è bene. Ci sono emigranti in Italia. Ci hanno lavorato con i farmaci diversi. Ci hanno capito che è molto meglio. Ci hanno fatto un'altra parte. Ci hanno fatto un'altra parte. io, tante cose che gli ho insegnato io, gli sono servite e quindi dopo ogni anno c'è creato un rapporto, un rapporto di fiducia, perché c'è la gente che è già il terzo anno che seguono, faccio parte di una famiglia che avevano 5 fratelli, quindi nasci con uno spirito di condivisione, non sempre gli affari che ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti.